Buon amico, ben ritrovati in questo nuovo video targato Universo Faxi Prima di cominciare vorrei anche più lucre e mostrarvi la fanarte del nostro fanarte Mario Foschetto e scusami con lui perché non l'ho fatto l'ascolso appunto Forse stanno abbassando di tutti i miei in questo momento incontropevolmente Però comunque dovevo, era dovuto, mi ringraziamento a lui Soprattutto a un grandissimo collaboratore che non fa parte della squadra Francesco Legore Ebbene, ora possiamo cominciare il video Buona visione Grazie 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 Grazie